InterJuven 3D I protagonisti siete voi Allora questo è quello che vedete fuori dal campo Soprattutto la coreografia da parte della curva Nord Chiellini però si fa soffiare il pallone ancora dal Super Alvarez Attenzione all'Inter, c'è dentro Icardi Icardi! Fa esplodere San Siro Icardi Attenzione a Vidal, in area di rigore La risposta della Juve Vidal, Vidal 1-1 Attenzione Arturo Vidal La storia del calcio italiano Juventus-Milan Vi facciamo entrare con le telecamere 3D Dentro lo Juventus Stadium 40.000 bagnerine bianconere che stanno sventolando Palla che filtra C'è Robinho Ha provato poi la conclusione Muntari Segna subito il Milan Incredibile Pirlo batte Pirlo 1-1 Pirlo Toccato a Biati Ma non ha saputo respingere Qui ruba palla a Marchesi Occhio a Vidalla Vidalla dentro Giovinco 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 2-1 La massa vincente di Conte Pirlo Batte il calcio di punizione Pirlo Pallo pieno E poi il gol Di Chiellini 3-1 Juve Chiellini Qui invece i tre del Milan A prendere palla Muntari va con il sinistro Muntari Deviazione gol 3-2 È una notte speciale La notte per scegliere Chi potrà andare a braccare Più da vicino alla Roma Dopo il pareggio dei giallorossi Oggi pomeriggio L'Olimpico contro il Sassuolo È la notte di Mamma mia Quanti campioni La notte di Juventus Napoli Tutto lo spettacolo In 3D Pirlo va all'uno contro uno Ancora Pirlo Tiene il pallone incollato Al piede Scarica dietro Per la battuta Deviata in era di rigore Palla che arriva lì È il gol di Giovinco La Juve Subito in vantaggio Con Fernando Giovinco Un minuto di partita Attenzione Alla destra di Andrea Pirlo 29esimo minuto Tre uomini in barriera Batte Pirlo Pirlo 2 a 0 Al 29esimo La Juve scappa davanti Con il terzo gol in campionato Di Andrea Pirlo Un'altra grande punizione Con il destro Pogba Un super gol Di Paul Pogba 35esimo 3 a 0 Partita chiusa Un gol Con il marchio Di Pogba Mamma mia che giocata Finisce allo Juventus Stadium Con la vittoria della Juve 3 a 0 3 a 0 Sul Napoli Tagore 2 a 0 2 a 0 3 a 0 3 a 0 4 a 0 1 a 0 4 a 1 1 a 0 4 a 0 7 a 0 6 a 2 a 0 Grazie a tutti.